In questo video oggi voglio andare a fare un riepilogo di quelle che sono state alcune mie operazioni di trading dall'inizio di quest'anno, dal gennaio 2024 fino ad oggi, oggi è il 19 marzo, anche perché in questo momento non ho posizioni aperte in piattaforma, anche perché il mercato, almeno fino ad oggi, almeno fino ad ora, non ha dato conferme del piano settimanale sui mercati che seguo. Quindi è un quale momento migliore proprio per andare a rivedere quella che è l'operatività e quelli che possono essere eventuali punti da migliorare nel proprio trading. Io sono Damiano Zito, Price Action Trader Indipendente, sono un membro e un collaboratore di questa community e questa rubrica è Professioni Trader, una rubrica dove settimanalmente io racconto il mio viaggio all'interno di questo mondo con un conto da 10.000 euro che ho aperto come fase esperenziale del percorso di accademia che ho intrapreso sempre in Airforex. Bene, prendo un attimo il diario di trading, questo è il mio diario di trading per Professioni Trader, come possiamo vedere io al momento ho fatto 8 trade che sono distribuiti diciamo 2 su gennaio, 5 sul febbraio al momento, uno solo su marzo. Il mese di gennaio era partito praticamente in negativo, poi ho chiuso febbraio in positivo e al momento insomma su marzo ho un attivo che è il trade long sulla sterlina. mesi dove insomma gennaio ho avuto degli interessi positivi, nonostante la chiusura, nella chiusura negativa, mentre su febbraio che è stato un mese positivo comunque ho avuto degli swap importanti. detto questo insomma il primo trade che volevo insomma andare a rivedere insieme è stato un errore tecnico sul posizionamento dello stop che era uno short sull'oro, possiamo andarlo a vedere sul grafico, uno short che avevo fatto il 25 gennaio e che effettivamente insomma è stato è stata una dinamica che ho voluto tradare probabilmente eccolo qui dopo questo movimento short stavamo dopo diciamo la la dinamica avevo fatto lo short su sul DAX, eravamo sul fine mese e ci sta che qui diciamo ho voluto anche cercare un po' una situazione da tradare. io avevo visto questa, smuoviamo questa FTV, dovrebbe essere FTV che nel momento in cui il giorno successivo quindi c'è stato un rialzo, teneva ancora il 2030 e il mercato poi ha riportato diciamo con un leggero aumento di vola a ribasso il prezzo, ho voluto tradarla con un sell stop il giorno successivo, il 25. Qual è stato qui l'errore che ho commesso? il fatto che ho posizionato uno stop paracadute in una zona raggiungibile dal mercato che è praticamente il contrario di quello che dovrebbe essere il posizionamento di questo stop, almeno raggiungibile nei tempi che solitamente tengo aperto un trade chiaramente, quindi dipende sempre tutto dal proprio modo, metodo di fare trading. il mercato stava venendo da questo short, aveva fatto questo ritracciamento, poi aveva fatto questo ulteriore gamba e l'errore che ho fatto appunto mettere lo stop paracadute, è vero che insomma c'era il 2030 che era il livello che io stavo monitorando, ma non c'era falsa rottura ancora del mercato, quindi effettivamente diciamo questo è stato l'errore tecnico, lo stop andava messo almeno 2080 se vogliamo, se non più in alto, se vogliamo un'ulteriore considerazione si poteva fare anche in questo modo, quindi il ritracciamento che aveva fatto di questa gamba potevo anche riproiettarlo proprio qui ed effettivamente il 2060 era anche in quel momento una cosa che anche se non vedevo questa possibilità, comunque dove in qualche modo potevo considerare andando a considerare la volatilità del ritracciamento che c'era stato nell'ultima gamba ribassista. Quindi errore tecnico sul posizionamento di questo stop paracadute e probabilmente anche la voglia di fare un trade c'è stata, che ci stava come dinamica, venivamo anche da una selezione settimanale di un certo tipo, però ecco lo stop è stato posizionato male, poi lui ha fatto la dinamica, ha fatto addirittura la falsa rottura, ma questo non lo andiamo a analizzare. Quindi diciamo questo è un errore, un errore tecnico che evidentemente dovevo fare che il mercato mi ha dato l'opportunità di reimparare. Poi abbiamo avuto, ho avuto l'euro che è stato diciamo un'operazione che ho chiuso praticamente, ho fatto short e poi chiuso in serata, è stata l'operazione dove ho scritto di più, ho notato sul mio diario, perché probabilmente ho avuto un contrasto un po' tra l'accettare di chiudere e il mantenere la posizione. Mi sono chiesto se in queste situazioni probabilmente mi conviene posizionare uno stop più ampio. Mi spiego meglio, probabilmente diciamo l'emozione che mi è, in qualche modo che ho provato insomma era quella di contrasto, no? Quindi tra la voglia di tenere e la voglia di invece di chiudere, perché qui avevamo una situazione un po' contrastante anche sul settimanale, che poteva chiudere FTV e avevo posizionato uno stop a 1.09.40. Diciamo che ora, chiaramente, quando c'è stato poi il ribasso, probabilmente venendo anche dallo short, che era venerdì, non sono più subito entrato al mercato, anche perché comunque questi minimi erano ancora più vicini e l'idea, insomma, l'idea era trovare una conferma migliore. Detto questo però, ecco, la situazione qui, diciamo come lezione che mi posso portare è che sicuramente lo stop in realtà era posizionato bene perché non è stato colpito e probabilmente quello che ho notato è che il fatto che però potesse chiudere una settimana, quindi qui era giovedì, e che potesse chiudere il giorno successivo, bullish, quindi creare la situazione per uno swing low che mancava sul settimanale, mi fa pensare che è vero che non è stato colpito lo stop anche successivamente, ma che probabilmente in queste situazioni potrei valutare, per stare più tranquillo, anche uno stop più ampio, forse. Quindi anziché il 50% della volatilità, mettere il 100% del mio trigger. Quindi diciamo questa è la considerazione che mi porto, anche in base a quella che è stata un po' la mia risposta, se vogliamo, emotiva. Il DAX invece mi ha insegnato, questo è il DAX long sul quale ho chiuso il mio profitto, il DAX mi ha insegnato una cosa importante, che per esempio su, ecco qui c'è stata una candela che in qualche modo ha invalidato il mio piano. Però se andiamo sul DAX, quando ho fatto questo trade, la lezione che mi porto a casa, questo vale probabilmente anche sull'euro, è che quando c'è una candela, io ero entrato praticamente long su questo mercato dopo questa, diciamo dopo un suo, anzi, c'è stata questa, quindi c'è stata la sua convalida, quindi io sono entrato qui, quindi il 7 di febbraio, sono entrato più o meno su un suo ritracciamento, comunque su questi livelli, su queste zone. Quando c'è stato questo ribasso, in realtà io qui la sera ho avuto la tentazione di chiudere, ma premendo un po' questo tastino settimanale, vedendo un po' il livello, che era 16.800, ovvero il livello che avevo già monitorato da gennaio, come livello spartiacqua, livello chiave, la mattina dopo, insomma, sicuramente non ho fatto niente e mi sono reso conto che effettivamente non può, la lezione che mi sta dando il DAX, quando c'è una pianificazione fatta bene, non può essere una singola candela, probabilmente poi ci saranno anche i casi, non può essere però una singola candela che invalida appieno un piano operativo. E quindi, insomma, questa è l'informazione, la lezione chiave del trading, anche perché poi qui effettivamente eravamo proprio sul livello chiave, il mio stop era ben più in basso, c'è stato questo recupero e successivamente addirittura è incrementato e poi ho chiuso in gain questo trade. Quindi, informazione importante, quando c'è un lavoro dietro che dura settimane o comunque c'è una pianificazione importante, ci sono dei livelli che sono stati studiati, è difficile che una singola giornata, una singola candela modifichi completamente la situazione, sempre è ammesso che anche lo stop sia posizionato in maniera adeguata a quell'analisi. Quindi questa è una cosa, una considerazione che mi porto con me, l'ho vista, insomma, l'ho vista più volte, insomma, è importante, quindi anche per me, quello che mi ripeto è valutare, fare le considerazioni, quindi con la candela end of day, anche in questi casi, anche il sei ore non è utile per ragionare, è piuttosto meglio ingrandire e guardare il settimanale e capire cosa sta succedendo, piuttosto che, insomma, guardare il sei ore in quel caso, cioè piuttosto è meglio andare sul settimanale e ragionare su livelli e su, appunto, swing, quello che sta avvenendo sulla figura più grande. Successivamente, ecco, una conferma di, invece, su... Allora, io ho fatto questo trade sulla sterlina, sterlina dollaro, quindi il 14 febbraio, ho fatto uno short. Ecco, lo short su sterlina, eccolo qui, se vogliamo, eccolo qui, questo è una situazione un po', se vogliamo, questo, se lo riguardo, qui c'era stato questo movimento, questo, se vogliamo, è quello che era il 2030 sull'oro, no? Dove io, in realtà, ho tradato qualcosa, no? Che andava a tenere il livello 2030, ma dove non c'era stata la falsa rottura. Sebbene io abbia chiuso a costo qui, l'idea, o meglio, l'informazione che mi porto da questo trade è che, in realtà, io qui ho fatto quello che è il metodo. C'era stata la rottura del livello chiave, nel 2030, c'era stata la falsa rottura con questo trigger di doppio massimo lower close, come che faceva, falsa rottura, quindi il mio stop, in questo caso, effettivamente era corretto, quindi io mi ero messo a, se non ricordo male, a 1,2760, sì, mi ero messo a 1,2760, poco sopra, insomma, il 50% di vola di questo setup. Poi ho chiuso, ho chiuso a costo, quando ho visto che la situazione stava ruotando anche su Euro e Australia, però sinceramente questo lo ritengo un costo, come dire, necessario, e basta, insomma, confermativo, ecco, confermativo del fatto che quel trade invece sull'oro è stato tecnicamente errato, anche se è forzato, comunque anche tecnicamente errato in termini di posizionamento dello stop paracadute. Poi voglio andare a vedere il petrolio, dove effettivamente ho fatto un trade long dopo, è stato il 22 febbraio, dopo questa conferma, che era la conferma di questo setup. Cosa voglio dire? Qui venivamo da un settimanale dove effettivamente c'era un trigger FTV, doppio massimo lower close, insomma, qui ero short. La settimana successiva, dopo averlo convalidato, insomma, lui aveva recuperato bene. Cercavo una conferma short. Qual è stata la mia idea, insomma, di trading? Il fatto che, dunque, allora, qui non era arrivata subito la conferma short, e va bene. C'è stata, se vogliamo, questa, che è stata subito convalidata e recuperata, che, tra l'altro, avviene in questo modo. Se andiamo a vedere, questo è il movimento della FTV short. Nel momento in cui il mercato, quindi questa FTV short, la convalida e torna su, lui mi fa questo trigger, se vogliamo, questo setup, quella che, probabilmente, qui siamo all'ultimo baluardo, la zona di ritracciamento del setup. Quindi nel momento in cui lui mi convalida al ribasso, recupera con un trigger long, sinceramente, insomma, non ho tradato questa informazione, questo trigger, però, insomma, l'idea che potesse fallire il setup e andare verso il livello dove in realtà è adesso, il mercato cominciava a cambiare, ci stava. Nel momento in cui il mercato, poi, il 21 ha fatto questa barra, per me è stata in realtà una conferma operativa e quindi il giorno dopo il 22 ho comprato, poco dopo la rottura, quindi più o meno su questi livelli. Il mercato viene giù, io avevo uno stop a 71, quindi con una view comunque anche di, se vogliamo, di medio periodo, però quindi poi viene su, che succede? Che, quindi, dopo questo su e giù, nel momento in cui fa questo setup, quindi pin bar ribassista con l'inside, io qui in realtà non in end of day, ma praticamente durante la giornata, verso le 15 o le 17, comunque qui ho chiuso zona 78 perché non mi piaceva più la situazione, nel senso che poteva effettivamente darmi la possibilità di entrare meglio e quindi potevo rimanere al mercato con maggiore tranquillità. Quali sono le lezioni qui? Beh, il fatto è che, dunque qui potevo, diciamo, gestire, per esempio, cioè se avessi gestito, in realtà, avrei potuto fare una gestione con uno stop qui sotto, ma siccome avevo un target qui, molto probabilmente dopo questa candela, che è comunque una candela di forza, ok, io sarei rimasto al mercato, avrei potuto gestire in maniera diversa, con almeno due o tre modi diversi. Uno è rispostarmi sotto questo minimo, perché questa era una candela che ormai aveva rotto il setup, e quando c'è stato questo rientro, probabilmente mi sarei spostato un pochino più sopra, o quantomeno sotto questa candela, oppure avrei lasciato questo stop. Che significa? Significa che comunque io sarei uscito, io sono uscito praticamente di nuovo a BE, io comunque sarei uscito al più, alla stessa, allo stesso livello di prezzo dove sono già uscito, quindi a BE, o con veramente un lieve costo, che era lo stesso della zona dove avrei lasciato il mio stop minore proprio in vista della mia possibile conferma di questo setup. La lezione qual è? La lezione è che, quando non c'è qualità operativa, molto probabilmente è difficile che questa migliori, ecco, e c'è sempre tempo sostanzialmente. Ora, qui chiaramente siamo nella zona di target, però il fatto che stavamo su queste zone, quindi in zone di massimi, comunque avrebbe richiesto una gestione attiva del prezzo, quindi o ti metti, ecco, con uno stop, il mio era 71, quindi lasci uno stop ampio, ma devi accettare l'idea che poi comunque da questi massimi possa effettivamente fare un ritracciamento profondo e quindi puoi effettivamente andare su quei, sul tuo target, insomma, sui massimi dove avevi eventualmente progettato. E quindi diciamo che l'idea è che o fai un progetto, un trade di medio termine con questa ipotesi, non era in realtà la mia, poi alla fine, perché insomma, alla fine io volevo l'idea, no, che una volta lui aveva fatto questo, che lui effettivamente, lui qui sotto non ci andasse più, nel momento in cui aveva fatto questo, ma soprattutto questo, poi da qui doveva, nel mio progetto, andarci magari in, rispetto al mio timing, nei sei giorni, più o meno. E quindi probabilmente io qui avrei chiuso praticamente come ho fatto. Quindi un trade, comunque che non aveva tantissima, altissima qualità, va bene così, ecco. Non c'è altro. Quindi queste sono alcune delle lezioni che mi porto un po' dal mercato in questi giorni. Abbiamo visto appunto l'oro di inizio anno, dove ho fatto questo errore tecnico, che insomma, consiste nel posizionare male dello stop paracadute, quindi un costo, no? Quindi ho rifatto un corso sullo stop paracadute, costato 179 euro, 176 euro, e poi, ecco, sull'euro, se vogliamo, insomma, una considerazione sulla mia risposta emotiva a un momento di vola ampia dopo un bel setup, una cosa sulla quale probabilmente ancora ci voglio ragionare, ma soprattutto sul fatto che comunque quando c'è un trade ben pianificato, aver letto bene la struttura e i livelli, e questo lo confermava il DAX, non è una singola candela di solito che invalida completamente, completamente un piano, quantomeno una singola candela daily, ecco questo, questo è da, da capire. Quindi diciamo che vanno in combinazione la buona lettura, l'individuazione dei livelli, e chiaramente il posizionamento dello stop. Questo è chiaro. Poi abbiamo visto come la sterline effettivamente sì, è stato un costo se vogliamo necessario, ma che conferma in qualche modo quello che è stato poi la view su, sbagliata o comunque diciamo errata in termini di posizionamento dello stop su oro. Su sterlina c'era effettivamente la falsa rottura, sull'oro non c'era, quindi il posizionamento dello stop in quel caso sterlina andava bene nel caso dell'oro non andava bene. Petrolio, un trade che effettivamente non aveva qualità, il mercato è andato un pochino su e giù, non era proprio come l'avevo immaginato, quindi per ora insomma la lezione che insomma in questo tipo di trade è meglio cercare probabilmente più qualità e gestire o comunque gestire diciamo sempre tenendo in considerazione il fatto che se ci sono delle zone meglio uno stop più ampio con un posizionamento quindi diverso e magari progettare l'idea che possa ritracciare in maniera più ampia magari puoi fare qualcosa di diverso proprio perché la qualità in quel momento non è delle migliori. Però insomma si fa sempre in tempo a rientrare quindi anche in quei casi non è detto che bisogna sempre rimanere per forza al mercato. In quel caso probabilmente ero se poteva stare perché avevo l'overnight positivo o gestire in maniera attiva però abbiamo visto non avrei tirato fuori granché col mio tipo di gestione attiva. Ok bene io ti ringrazio per aver visto come al solito questo video se ti piace questa rubrica insomma sei interessato a capire come lavorare insomma con questo metodo e seguire un po' questa mia esperienza ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai già fatto di lasciare un mi piace e commentare commentare utilizza qui sotto la sezione dei commenti per farmi sapere cosa ne pensi io ti ringrazio ti saluto e ti auguro soprattutto buon trading alla prossima ciao ciao